Ecco si preparano a fare l'ultimo giro, ecco il nostro mister che detta i tempi, ecco Michele il primo che parte, ecco pure Teddy, adesso Cristian che lo tallona, Costantini, Perrucci, Nicola, adesso c'è Renzetto, Renzetto accelera, metti la prima, bravo Lele, e riscendono da questa parte riprendendo piatto, bravi ragazzi, bravo Nicola, sembri una Ferrari, Ecco il mister, ecco parte Bitbull, scendi, scendi veloce, via, su bravo Bitbull, ecco Karan, scendi, 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 veloce, veloce a scendere, scatto via, Così, così, vai su, vai su, ecco va, Guido, guido, scendi, scendi veloce, scendi, guido, via, e riparte, ecco si accinge, Gabriele, Gabriele ha messo la prima, scendi, adesso c'è Riccardo che si accinge, Ecco supera, ecco supera, sta superando pure, no, così, vai, via, ecco adesso, adesso con la sua falcata, via, scendi, è partito Bartolo, Bartolo che, ecco, ritorni indietro, ingrana la marcia e riparte, ecco, Mici, Mici, su, scendi, Questa che è? L'ultimo? Ultimo giro, ultima corsa, facciamo uguale, via, ecco i nostri ragazzi si stanno preparando a dovere per l'imminente campionato del 22 ottobre, parte Michele, 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 all'albero, 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 ecco pure, Teddy, Teddy, Mata, Cristian, vai su, vai su Cristian, Cristian ha messo la prima, ecco Cristian, riparto, adesso Costantini, Costantini, la sua falcata, Renzzetto, Renzzetto, vai Renzzetto, scendi, adesso, adesso parte Nicola, Nicola Perrucci, vai, ecco!